Questa sera, direttamente da Peletto Canavese, Buonasera a tutti dall'Associazione Filarmonica Felettese! Al podio, il maestro che ha conosciuto Alan Silvestri! Il maestro che ha conosciuto Michael Giacchino! E quest'anno fa il triplete! Mancava ancora Hans Zimmer, il compositore di questa musica! Ecco a voi il maestro Bruno Lampa! Proloco Mastri sta organizzando in queste serate la festa patronale dei Santi Angeli Custodi! Si è cominciato ieri, si prosegue stasera? Si è cominciato ieri con la festa della birra, con dei buoni risultati, stasera c'è la banda di Feletto che propone il videoconcerto e poi il prossimo sabato con la polenta. Era la seconda edizione per la festa della birra, diciamo che è andata abbastanza bene e adesso proseguiamo la prossima settimana e speriamo che vada ancora meglio. Polenta e non solo, polenta, salsiccia, spezzatino e il solito nostro menù, speriamo che, anzi, accorretti numerosi. Una Proloco sempre attiva, quanti soci siete adesso? Beh, presumo siamo un centinaio di soci, sì, centinaio di soci. Il numero del direttivo è una trentina di persone e queste trentina di persone, sì, collaborano tutti in vari modi. Bisognerebbe riuscire a portare un po' di più i giovani perché abbiamo bisogno di loro. Ed è sempre difficile coinvolgerli? Diventa sempre più difficile coinvolgere perché probabilmente adesso, in questo momento, le loro attenzioni sono fuori dalle tradizioni dei paesi, hanno molte più cose da gestirsi, da vedere, da andare a vedere, da muoversi. Per partecipare alla polentata? Allora, per partecipare alla polentata è gradita la prenotazione, ci sono i numeri sui volantini, se no c'è il mio numero che è 346 80 37 705 e mi contattate, contattatemi numerosi. Il principe si sudò, ma era molto tardi perché lei ormai aveva visto che non c'era ancora nel suo cuore.